Non è possibile, sono passati anni, sono passati tre anni da quando giocavamo ad Hello Neighbor e siamo tornati con un nuovo capitolo che si chiama Hello Guest, il nuovo Hello Neighbor Porca miseria, il signor Giuberto, e sì che sono pronto, e sì che andiamo Chi di voi c'era? Quanti di voi c'erano? Vi ricordate? Quelli che non c'erano devono sapere che è stata una delle serie più importanti del canale Il primo è Hello Neighbor e questo è il secondo capitolo Che sembra che... questo sembra il figlio del signor Giuberto Una faccia buona, ma fidatevi che ci inganna Non è buono in realtà, secondo me questo qua dentro fa schifo Si vede dal baffetto sparato, no? Sembra però un cagassotto, probabilmente è buono perché Chi si caga sotto a volte di solito è buono, no? I cattivi sono sempre coraggiosi Allora c'è una strana scultura, vedetevi Qua bisogna essere arguti, bisogna tutti concentrarsi, dovete vedere insieme a me tutte le cose Perché ovunque ci sono indizi per risolvere il gioco, capito? Ogni dettaglio è un indizio Vi ricordate tutta la sequenza della mela d'oro su Hello Neighbor, no? Che nessuno capiva cosa servisse sta mela d'oro e poi invece era così importante Allora, bene! Dunque abbiamo tra le mani una specie di mappa Disegnata probabilmente da un bambino, vedete? È una mappa tutta scarabocchiata Forse da lui, perché può essere che sto tipo è incapace a disegnare Quindi il suo meglio era fare sta roba qua Bene! Allora, sembrerebbe che siamo dentro una specie di parco Però dove cavolo dobbiamo andare? Perché la strada è lunga, ma io ho paura E soprattutto, io sono abituato Vi ricordate su Hello Neighbor c'era una casa Qui non sembra esserci nessuna casa, sembra essere una gigantesca foresta Mmmmm! Qua qualcosa, gatta cicova! Fidatevi di me, mi ricordo lo stile delle macchine Quelli di voi che non c'erano quando giocavamo a Hello Neighbor, non preoccupatevi Vedrete che non ci metterete tanto tempo a capire il senso di questo gioco Anzi, sono sicuro che è abbastanza semplice Cerchiamo di guardare bene e attentamente intorno Non perdiamoci niente, eh, mi raccomando Qua c'è una freccia che indica di qua Però davanti a noi qui, invece, c'è un posto che si chiama Non ne ho idea C'è il nome Lodge and Poyol Non so, sarà una lingua strana, non chiedete, non lo so Andiamo avanti però, perché Avete visto? Avete visto, no? Dietro l'albero Lì C'è qualcosa C'è qualcosa lì Ehi! Ehi! L'avete visto? Quell'infame È qui dietro È qui dietro Schifoso, infame Avete visto che si è nascosto quando io l'ho guardato? Lo sento ancora Ma non lo vedo più Allora, una delle immagini del gioco Con cui il gioco si presenta Praticamente È questa specie di creatura Con il becco Che è veramente Ma veramente Ma che poi imbecillo No, non buttare le cose Che cacchio fai? Ho sbagliato Aspetta, eh Allora, ho anche appallotolato E buttato la mappa Cosa che secondo me Non è per niente intelligente da fare Ma non buttarla Perché sei imbecile Ma te Non guardare Ho capito Allora, ok Cerchiamo di organizzarci Con un po' di cervello Dunque, noi siamo entrati Dobbiamo fare il percorso Che è segnato dalla mappa Ok In teoria abbiamo passato le macchine Abbiamo passato quel cancello nero Che c'è lì Siamo Dove c'è quella frecciolina rossa Credo Il problema è Se io volessi usare la torcia Aha Ok, beh, beh Non so se tenere la torcia accesa o spenta Effettivamente Perché anche con la torcia spenta Da una certa atmosfera, eh Però forse è troppo buio Teniamola un po' accesa Un po' accesa Un po' spenta Anche perché non so se Metti caso che la batteria non è infinita Eh, lì poi Arriviamo ad un certo punto Che siamo Siamo sprovvisti Già mai essere sprovvisti di luce In un gioco del genere Ragazzi Qua c'è una po' Ok, un cancello chiuso Perfetto Stiamo capendo Allora, ci serve una chiave Per quel cancello Teniamo la torcia accesa Per un pochino Sento uno strano sibilo, eh Mi sto un po' cagando addosso Anche perché Ultimamente Dai tempi di Granny, no? Che è stato l'ultimo gioco semi-horror Che abbiamo fatto Sento, sento un Sento un telefono squillare Quindi secondo me Una delle cose più intelligenti Che possiamo fare è andare A vedere dove sta questo telefono maledetto E a me sembra che sia da questa parte Andiamo direttamente al telefono Però vi dicevo Dai tempi di Granny Io non sto più facendo Giochi horror Paurosi Quindi Sono un po' fuori allenamento Inoltre Sono sempre abituato A stare in compagnia C'è sempre Anna Cico Giorgio Qua sono da solo Con voi Certo, infatti Tutti insieme Io e voi Possiamo farcela Io da solo mai farei Non ci giocherei mai da solo Ma con voi Sono confortato Però Devo dire che Non buttare le torci per te Imbecille Imbecille Spegnila Cioè E' qui il telefono Si chiamava Selvom Lodden Payol Lodgen Vabbè il telefono Credo sia sta cosa Sto tosta pane Vediamo un po' cosa succede Rispondendo Continua a suonare C'è una sveglia Non so Cos'è sto Credo che Ci sia una sveglia Che sto parlando Al telefono con una sveglia Non importa Allora Abbiamo iniziato Il nostro turno Start shift Si inizia Inizia il turno Significa Check the top of the mountain Controlla la sommità Della montagna Poi qua dentro C'è Un Che cosa ho preso Un punto di domanda Che cosa Oh l'ho messo No sono stupido Ho messo V E E Allora la mappa Non ci serve Secondo me La torcia si Però qua c'è un altro Lucchettone Incredibile Qua una grossa molla Qua niente Niente Ricordate Bisogna guzzare Bisogna vedere Ogni dettaglio Senza mai Perdere niente Di vista Perché altrimenti Se tu perdi di vista Una sola cosa Sei spaccia Cosa è successo Si spaccia Sulla montagna Eh bisogna andare Cosa stai facendo Ma imbecille È completamente deficiente Non vi preoccupate Allora c'è quel grosso Quella statua grossa Di quell'uccello Vedete Quello È lungo È lungo Uccello Non è possibile Ci persegui È successo un disastro Là sopra Ha dei poteri Il lungo Cello ha dei poteri Che sch... Cos'è stato? Eh Facciamo sch... Eh Chi è stato? Oh Ehi Ehi Oh Che Sento dei rumori Ohi Non ci provate Ohi Vittor... Oh Che cacchio è questo scemo Ohi Che cacchio fai? Ma sei... Ma che brutto Cosa sta succedendo? Sento dei... Stanno dando a calci Alle cose Ohi Allora Allora Ce n'è un altro Lo sento No Ehi 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 Allora Vai via sai Oh Ehi Ehi Via Via Ma che cacchio di roba sono? Ma dove... Ridatemi la torcia Voglio vedere Guarda quanto è brutto Ehi Ehi Che schifo Ma cosa sono? È una cosa... È terribile Ce ne saranno altri? Non chiede... Non ne ho idea Io sento dei rumori strani Proverire dalla boscaglia Questo sono io che ho pestato una caca probabilmente Ho sentito un rumore strano Ancora? Allora Via Anche guarda in un altro Guarda in un altro Ma che è? Ma assurdo Guarda Guarda Li vedi Vedi che cerca un tempo di arrampicarsi sul Sul muro Ma cosa? Ho fatto male? No Credo che sia finito il mio turno Perché vedi A lui gli suona la sveglia Quando gli finisce il turno di notte E poi lui va a riposarsi Credo Nella sua... No Quella specie di capanna Ah E qua mi hanno dato Il salario Di 500 soldini E io che ho fatto? Posso spenderli in qualche modo Cos'ha? Non ho capito Ah No Ho capito che ci sono dei cassetti Beh Questo è interessante Però Credo che Io ho cliccato a caso Mi sa che mi sono perso qualcosa Non importa Tanto in teoria Il giorno dovrebbe finire nuovamente Perché se vedete C'è la lancetta che scorre Quindi quando arriva alla fine Dovrebbe passare la giornata nuovamente E io dovrei tornare alla fine Col salario Se io poi posso scegliere Di spendere il mio salario Magari posso comprare qualcosa E sarebbe interessante Ma la domanda vera è Dove cacchio devo andare? Perché questa cosa qui Sembra una fesseria Ma in realtà è importante Perché se io non capisco Dove devo andare A parte c'è quell'uomo uccello Sempre Uè Non fare Eh Ma ho finito la torta Lo sapevo Mannaggia a me No No cosa fa Quello è inquietante È il peggiore Io non so se seguirlo Ma credo che seguirlo Non sia una buona idea Comunque Penso che lui Oddio Sembra che scappa da me Però È inquietante Ma è proprio tanto inquietante È un lungo uccello Quello lì Mi fa proprio Mi fa strisce a me Molto più bravo di me A essere il lungo uccello Molto più bravo Possiamo provare a vedere Da questa parte però Perché Vedi che di qua continua Ho fatto bene E c'è Ma Cos'è qua? Vuoi abbandonare il turno? Ah Perfetto Allora Cosa ci serviva? Abbiamo detto La presa Ok Ci serve altro? Non credo Però non so cos'è questo Non sapendo Compriamone uno E compriamo anche un'altra presa Di queste qua E basta Ma sì dai Un altro No niente L'estintore costa tantissimo Andiamo così Perfetto Allora adesso Abbiamo l'altra presa elettrica Sì Questa credo sia una luce Non ho idea Non so bene Però va bene Prendiamo Andiamo Con il coraggio a quattro mani Che secondo me Qui stiamo Facendo la cosa Se non fa nulla Mi arrabbio Però penso che stiamo facendo la cosa giusta Allora agganciamo qua l'ultimo Così Poi Qua Così La leva Eh Eh Aha Vedi che gira Eh Lo sapevo io Ma non serve a niente Allora prima di tutto Vi vorrei informare Che ci sono stati Dei malfunzionamenti Con il signor Corvo La Quel cristiano Un po' cattivo Quindi Un po' pericolosa la situazione Però Credo di aver capito Che dobbiamo saltare Molto abilmente Da qui Verso quella specie di Piattaformina La sopra Quindi se io sono bravo Cosa che non so se lo sono Però dovrei essere in grado di Mamma mia Forti Incredibile E questa è una zona che non avevamo visto prima Quindi se io Però io non vedo niente Perché Quel tipo Mi deve aver messo le mani Mi ha toccato Mi deve aver fatto qualcosa di orribile Perché vedete che io vedo tutto Strano adesso Prima era molto più Pulita la situazione Eh Eh Vai a sapere Quello Aha Però abbiamo trovato la chiave Belli Mamma mia E anche Altre cose Una luce Eppure un'altra situazione Che però In questo momento Non fa nulla Non fa nulla Perché a noi quella cosa che serviva di più Era la chiave Se adesso Siccome noi ora abbiamo la chiave Anche se è finito il turno Cioè ne frega niente Perché noi abbiamo trovato Eh Lui finisce No vedi Chiude lì Sta succedendo qualcosa di strano O normale Mmm Mmm No tutto bene Ok Il negozio Ci andiamo Mmm No Perché abbiamo già tutto in teoria Abbiamo la chiave Quello che ci serviva è la chiave Non bisogna mai Mai Farsi toccare Dal lunguccello Perché quello lì Poi è Anche più lungo Di quello che noi conosciamo Una lunghezza Incredibile Pericolosissimo Ah Non mi dico Per un attimo Ho pensato che fosse la chiave sbagliata Sarei stato arrabbiato Qua E qua non sarà la chiave giusta però Eh la chiave giusta anche qui Incredibile Torcia Quel pasticcio che ho fatto lì Secondo me è stata un'ediozia Ve lo dico sinceramente Quella cosa là che ho fatto Il Quella situazione Vedete perché Cioè cosa abbiamo risolto noi Effettivamente ad aver azionato Quel Quel manfrino Là dietro Che fa rumore Secondo me niente Invece era più utile Magari metterlo qua Perché vedete ci sono tre cose anche qua Era più intelligente Allora facciamo una cosa Buona Ok Facciamo una cosa buona Allora Prendiamo questa cosa qua Che dovrebbe essere una luce E la mettiamo qui Perché ho capito una cosa Bestiale Vi Vi racconto Allora Quel lunguccello È molto schifoso Fa veramente schifo Perché però Non perché Ho dell'odio Nei suoi confronti Anche Però non solo Praticamente Egli Però qua ho fatto un danno Aspettate un attimo Perché sono Sono stupido Mi sa Un pochino Un pochito Ok Un po' più dietro Dobbiamo mettere Lui Ha paura della luce Ma se tu ti aggiri nel buio Lui Ti entra Capito Con quel lungo becco Una cosa Da un momento all'altro Quindi facciamo così Qua Perdonate il disastro Spegniamo Ok Perfetto Mo Questa che avventuria A noi forse non serve più La mettiamo comunque qui L'estintore Mettiamo qui E mettiamo qui anche Nient'altro Perché va bene così Cosa ci prendiamo Ci prendiamo Una luce Poi Un'altra luce Se posso Sento che stanno Scassando Il campo Però a noi Di questa cosa qua Che loro scassano Ce ne frega Fino a un certo punto Va bene Poi molliamo Una di queste Ma anche due Credo Va bene Non impone Ne molliamo solo una Ci prendiamo il generatore Che qua non serviva A un ciuffolo E ce lo portiamo Qui Piano però Attento per il meno male C'è la cacchetta per terra Perché altrimenti Ti rompi le caviglie Bravo Aha Adesso Cosa dobbiamo fare noi Qui Dove che era Ecco qui Che c'è questa situazione In corso Se noi mettiamo Qui il generatore Con molta furbizia Poi Colleghiamo Una Poi Una lì Con bravura però Bisogna Ok Poi Una Ehi Ho sentito versi Facciamo finta di niente Non caghiamoci addosso Senza motivo Va bene Manteniamo il sangue freddo Tutti quanti Ale Come abbiamo fatto Boh Non lo so Proviamo a premere No Prima Beh imbecille Anch'io Prima accendiamo il generatore Ecco inizia a fare il suo mercato Poi Apriamo Uno Due E poi qua ci sono delle altre cose No Aspetta Allora così Non lo so eh Proviamo 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 Forse Abbiamo fatto mica la cosa giusta Mi pare che sia tutto uguale qua dentro Non credo di aver fatto la cosa giusta Forse Ah Ho capito Vedi che c'è C'è una luce lì C'è una luce Quindi noi cosa dobbiamo fare Adesso tutto è spento Quindi cosa dobbiamo fare Dobbiamo Premere i due pulsanti Così Poi si accende una luce lì E quella luce qui sarà collegata a questo No sono un imbecille Ok Era il contrario Quindi prima accendiamo Poi Si è acceso all'ultimo Questa è qui adesso Bravissimo Poi Bravissimo Poi la prima Sempre più bravo Incredibile E poi questa No in teoria abbiamo fatto qualcosa di buono Andiamo a controllare Prima che arrivi di nuovo Quel lungo uccello incredibile Ah ah Abbiamo aperto Ok Non vedo niente qua dentro però E' buio pesto C'è una porta qui C'è una botola sopra Apre Secondo me c'è qualcosa che ci stiamo perdendo Allora probabilmente Probabilmente C'è qualcos'altro qui Tipo un'altra chiave Non lo so E' molto complicato E' molto complicato Vedi mi scende di nuovo Perché mi sta scrutando il lungo uccello E qui c'è un'altra cosa Aspetta 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 Allora Ci sono delle altre manopole qui Con un cavo giallo Che va Verso su Bisogna stare attenti Perché secondo me il lungo uccello sta toccando di tutto là dentro Quindi Manteniamo la calma Dunque Qua sopra Mi sembra strano Perché io vedo attraverso Secondo me lì dentro c'è qualcosa Però Aha 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 E vedi il cavo giallo E lì è il cavo giallo E ma io come faccio E lì c'è un cavo Allora c'è un cavo giallo E mi sta salendo quella specie di impazzimento Causato dal lungo uccello Quindi secondo me noi dobbiamo La mia spento il generatore Non sarà mica Non è possibile Mi sta scassando il generatore No Cioè mi sembra Un potere estremo per essere L'unco uccello No Mi ha scassato Ma che davvero Mi ha scassato il generatore Ho capito tutto Mo Bisogna vedere se Da capire a fare Riusciamo ad arrivarci Ok Io ho anche messo una corda per salire più velocemente Non credo di aver fatto un affare Perché mi sembra che non salgo un accidenti lo stesso Però Noi ci proviamo lo stesso Non mi dire che finisce Il cacchio D'estintore Perché veramente poi Abbia pazienza Sopporto tutto però Il cacchio di estintore Per favore Perché non salgo ora Dai vi prego Ci ho provato 40 volte Dai bravissimo Ecco vedi vedi Molto bravo Molto bravo Allora la corda è lì Vedete no Se io la chiappo no Sono bravo no Cioè Non sono bravo Per favore Dai Dai ce la fai Dai Su Con l'estintore Questo è finito Bravo Allora mettiamolo qui Vai Ne abbiamo un altro però Con coraggio Ok No 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 Questo non era coraggio Questa è stupidità Ok Vai La corda del cacchio La corda del cacchio Non ce n'è Non ce n'è Non ce n'è Va bene Non vi preoccupate C'è un'altra strategia Possiamo fare l'altra strategia Allora se noi saliamo così E poi vedete ci fermiamo su Su questi punti Poi possiamo Con abilità Però non è semplice Adesso c'è problema Hop Così Vedi Vedi Con grande abilità Così Cosa facciamo noi adesso Possiamo mettere la telecamera Mannaggia pippo Qui E poi vederla Dov'è Finalmente Porca miseria Non ci credo Ci siamo eh C'è voluto Una pazienza Divina Guarda Poi Ma guarda Poi ne parliamo Della pazienza che c'è voluta Perché bisogna parlarne Una cosa guarda Cosa sta facendo qui Scendi per favore Cosa c'è Adesso c'è la corda E non riesce a scendere Fino a mo Non ci riuscivi a salire Su sta maledetta corda Mo non riesce a scendere Eh Stupido Babanazzo Non si vede nulla qui Allora tutto tutto rotto Ma No questo estintore è buono ancora Fermo fermo Dove Dove è finito L'ho perso Non fa niente Allora Ok Pronti Dunque Come si faceva Giriamo la prima Così Non so Non fa nulla Premiamo il 2 Eh Ah ah Vedi Questa Poi Quest'ultima Non vedo niente Con questo coso in mano Ok La penultima È la prima Pazzesco Si è aperta la porta Pazzesco Pazzesco Ora in teoria questo possiamo spegnerlo Giusto Che è fastidioso Si La porta rimane aperta Pazzesco Ora Cosa è successo Non lo so Tranquilli eh Ora Questo estintore Ce n'è ancora No Bene Quanto manca alla fine del turno Non tanto Proviamo a fare così Facciamo i furbi Questo lo buttiamo Perché è finito Dobbiamo andare a comprare Un altro estintore Qua c'è pieno di gentaglia No Però a noi non ce ne frega niente Noi corriamo dritti Spaccate L'accidente Che vi pare Brutti Protozoi Me ne importa proprio Andiamo all'uscita Così finisce il turno Noi furbissimi No Una cosa Guarda Che Quanto è faticoso Finire l'one È sempre stato Pazzesco Sempre è stato Anche il primo Il primo certe parti Guarda vi giuro Ci ho sudato sopra Il sudore di mille sudate Quanti soldi abbiamo 500 Ok Beh è sufficiente Ci serve solo un estintore Basta non sprecarlo Ok Bisogna essere abili Nel non sprecare l'estintore Perché poi secondo me Abbiamo finito Anche perché Porca miseria Sto registrando da un'ora E mannaggia Pippo Un'ora è assai Voi vedrete 20 minuti Ma un'ora È le un'ora Ma poi voi avete capito Perché io ho capito Sicuramente è l'inverso Quindi praticamente di solito Era il vicino A dover scacciare noi Dalla sua proprietà Invece qui è il contrario Qui siamo noi A dover scacciare Questo Quest Che sarebbe Queste specie di Di cornacchie Per favore Puoi impegnarti Grazie Queste specie di Cornacchie brutte No Sarebbero loro Il quest È molto brutta Sta cosa Perché Hai sempre paura Che ti si insiduano Insiduano Fortissimo Incredibile 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 E adesso L'ultimo Così Incredibili Incredibili Siamo in una specie di È una classe Credo Però i banchi Sono rotondi Può essere tipo Una specie di Un bar Un caffè Qualcosa del genere Perché I tavoli sono particolari Ma mi ricordo che Nel primo di Yellow Neighbor C'era una classe Quindi mi è venuto Da pensare a quello Qua Sembra di sentire piangere Ma questo sono io Che faccio questi rumori Di passi Io pensavo Che fosse tutto qua C'è dell'altro Aspetta Aspetta Cerchiamo di capire Allora vedo che ci sono Delle finestre aperte Queste finestre ci portano Vedete sul tetto Qua Eh ma qui È rischioso È molto alto Però questa zona Non l'abbiamo mica vista Vedete qua non ci siamo andati Questa è una zona nuova C'è un filmato infatti Forse ci siamo Forse è finito Non riesco ad andare Oltre all'aspetto che abbiamo Perché secondo me Siamo veramente cattivi C'è qualcosa di strano in noi Siamo proprio brutti Però siamo delle guardie notturne Vedi abbiamo anche Il simbolo sulla spalla Tipo di giustizia no? E bisogna stare Però la sua La somiglianza col signor Giuberto è stratosferica Ci sta che sia tipo il figlio E qua c'è una figura particolare Brutto Sembrava il lungo uccello Ma secondo me Non era neanche il lungo uccello Però sembra che ci sia venuto Adosso Come volesse aggredirci No? Come volesse Rapirci Acchiapparci C'era una luce forte Una macchina probabilmente Era no? E credo che finisca qui Perché c'è il titolo Di coda Quindi è probabile Dobbiamo aspettarne Un prossimo capitolo Beh a questo punto Dovete entrare in gioco voi Dovete dirmi voi Se volete vedere Il continuo Oppure no Perché questo gioco Probabilmente andrà avanti A scaglioni Come il primo Che venivano sempre aggiunte Nuove cose Man mano Quindi dovete dirmi Voi se volete vedere Come va a finire Io penso Ovviamente di Di sì Perché cavolo Hello Neighbor Il primo Se c'eravate quando giocavamo Allo Neighbor originale Scrivete io C'ero nei commenti Per questa volta ci fermiamo Spero sto video vi abbia fatto piacere Così a tu per tu Io e voi È stato un po' Più intimo del solito Che siamo sempre in tanti È stato bello E per quanto riguarda La storia di Hello Neighbor Hello Guest Anzi Perché non è Hello Neighbor 2 Hello Guest Hello Ospite Ciao Ospite Fatemi sapere Se avete capito qualcosa Nei commenti Scrivete tutto E per questa volta Lion out